Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Aldo Ring Bene, andiamo a fare la caverna di Profundis al 100% Allora, questa è una trap, una trappola quindi basta scavidarla e siamo a posto prendiamo la proboscide che c'è, la carne di quel cazzo che è senza far casino, cioè io cadrò sicuramente ok, upload perfetto, ottimo accendiamo questa e facciamo che andiamo di qua andiamo un po' ok perfettico prendiamo qua andiamo di qua e qui c'è un simpatico e carino ok, vieni, vieni e vabbè, se non vuoi dire chi sono gli prenditi qualcosa poi si prende questo si prende il A1 non sarà troppo ok, adesso andiamo qua che ci sono uno troppo piccolo e uno giganto e due pezzi di questi ecco, di spumante come si chiama di sti cosi ok perfetto stiamo attenti che questo è molto stronzo ok eh, vabbè ok vai perfetto andata preso e vediamo un po' abbiamo preso quello abbiamo preso questo credo che dobbiamo andare di qua guarda la guida vi dico esatto allora adesso andiamo di qua come ho detto stiamo attenti qui ci sono e non si muove vabbè pazienza andiamo a questo perfetto questo ottimo adesso andiamo stiamo attenti perché qui si deve scendere giù cerchiamo di scendere nel modo meno peggio che posso perfetto e adesso qua allora mi curo un secondo preparo questa ok e adesso prepariamo a una boss fight che non ho idea di come sia però ci prepariamo basta no vediamo quanta bella roba c'è non cazzo di niente beh sono tutto ok ah non ce la fa io ah ecco dicevo ok ok come ci ha creduto eh ma io stavo caricando per carità eh però è leggermente stronto signor stronzio è stato ah gli sono finito proprio tra le braccia cioè mi sembra giusto stava puntando all'alto però io ho detto ma dai poverino ma cazzo cioè vorrei vedere qualcosa non è che vorrei essere sempre uno stronzio di turno però ok eh cazzo dove vai dove vai porca vacca è proprio ruento lui eh ah non l'ho preso e niente ce la faccio ce la faccio a fare deficiente ok eh non me l'aspettavo una boss vai così irruenta però ci si fa è molto veloce e non so le sue movenze ancora ok ok eh ok devo studiamolo un attimo scusate ok perfetto non era difficile devo solo studiamolo un attimo a capire le sue movenze e ce l'abbiamo faccionata mi ha dato il talismano del drago magico ma che cos'è questo talismano del drago magico non me lo ricordo incrementa la resistenza ai danni magici che non è male se andiamo a Lucaria eh cavoli allora cosa c'è di bello qua una fafalla ardente oh un giglio di trina e poi vediamo se c'è qualcos'altro che ha droppato qualcosa guardiamo che non ci ho guardato non c'è niente ok io direi che l'abbiamo fatta al 100% vediamo un po' bene finita al 100% adesso lo usiamo qua e nel prossimo episodio andiamo avanti perché dobbiamo prendere una cosa molto interessante che vedremo nel prossimo episodio quindi ragazzi come al solito vi invito lascia un like e un commento si vi faccio la serie fa pi sapere che non si vi faccio la serie poi vi faccio la serie ciao 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 ciao